Di Maio, Luigi, ne ha facoltà. Grazie, Presidente. Io intervengo per denunciare un fatto gravissimo, perché mentre qui si sta discutendo di poltrone, si sta discutendo di sbarramenti, di premi di maggioranza, succedono cose, per esempio, nei ministeri che nessuno conosce. Qualche mese fa, nel bel mezzo dello scandalo mafia capitale che ha coinvolto cooperative e che ha visto prima e dopo altri scandali sulle cooperative, il Ministero dello Sviluppo Economico, con un atto di chiusura ispezioni del 21 gennaio 2015, dispone la sospensione di tutti gli incarichi di revisione alle cooperative, lasciando di fatto sulle cooperative l'unico controllo, cioè quello di Lega Coop. Io mi sono già espresso su Lega Coop. Non è un ente che può fare la revisione dei bilanci delle cooperative, perché è in conflitto di interessi, è un ente eletto dalle cooperative stesse, ma fino a qui c'è da piangere. Poi viene da ridere, perché se andiamo a vedere nei decreti ministeriali dello stesso Ministero che dovrebbe controllare le cooperative e non lo fa più, si stanzia con un decreto ministeriale del 4 dicembre 2014 circa 300 milioni di euro per nuove cooperative, cioè nel periodo più buio della nostra storia per le cooperative in cui servono più controlli e meno soldi nei loro bilanci, il Ministero dello Sviluppo Economico stanzia più soldi e gli toglie i controlli. È un fatto scandaloso ed è un segnale politico di un governo che ha deciso di premiare coloro che si sono macchiati dei peggiori reati di corruzione in questo Paese.